Non è decaduta ma non è nemmeno stata modificata la misura cautelare con la quale è stato disposto il carcere per Angelica Hütter. Dopo un ricovero di poco più di dieci giorni nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Venezia, la giovane automobilista tedesca accusata di omicidio stradale plurimo è tornata in cella nel carcere femminile della Giudecca e lì resterà, non è chiaro ancora per quanto, per il pericolo di reiterazione del reato e di fuga. La 32enne era la guida dell'Audi a Trent, è stata il padre quando lo scorso 6 luglio investì, uccidendoli praticamente sul colpo, il piccolo Mattia, Marco Antoniello e Maria Grazia Zuin. Quella macchina era la sua casa da quando nell'ottobre dell'anno scorso l'aveva riempita di beni di prima necessità prima di partire per un viaggio nel sud Europa. La stampa tedesca fa coincidere la decisione di intraprendere il viaggio con l'irruzione della polizia nell'abitazione dei genitori una settimana prima della partenza. Sconosciuti i motivi della perquisizione domiciliare a Deggendorf che però sarebbero stati oggetto di un acceso diverbio fra Angelica Hütter e i genitori. In Italia la giovane viene denunciata dalla polizia di Bolzano per oltraggio a pubblico ufficiale per possesso di oggetti atti a offendere. In un negozio Angelica discute animatamente con un commesso che richiede l'intervento della forza pubblica. Alla vista della polizia la giovane ha una reazione scomposta, viene perquisita e dallo zaino salta fuori un martello. La denuncia è a piede libero quindi la 32enne riprende il suo viaggio. In comelico le telecamere riprendono la sua auto in due distinti momenti ravvicinati nel tempo. Nel primo la si vede ferma una fontana a riempire bottiglie d'acqua. Ad un certo punto la giovane chiude con una certa forza le portiere dell'auto sulla quale risale compiendo una pericolosa inversione a due in seguito alla quale rischia di andare a sbattere contro l'auto di una donna che sta uscendo da un passo carrabile. Pochi minuti dopo la seconda telecamera riprende l'auto sfrecciare in via Udine all'altezza dell'incrocio per la frazione di Campolongo. Poi un doppio frastuono indica il momento esatto dell'impatto. Cosa, come e perché si sia compiuta quella strage al momento restano interrogativi senza risposta. Le famiglie Antoniello e Potente hanno chiesto la tregua mediatica, idem la difesa di Angelica Hütter rappresentata dall'avvocato Giuseppe Triolo del foro di Belluno. Al lavoro i consulenti tecnici per le perizie le cui risultanze non saranno pronte prima della fine dell'estate.